Dunque rimangono 34 naufraghi sulla mare Ionio, sarò breve, io chiedo a chiunque oggi sia in grado nell'istituzione di farlo, di ritrovare l'umanità, di ritrovare quello che dicono le leggi internazionali, di ritrovare quello che dice il buonsenso e lasciare scendere a terra questi 34 naufraghi. Salvati dalla mare Ionio con moltissimi bambini che per fortuna sono già scesi e di ricordarsi che ogni giorno, ogni notte muoiono a largo centinaia di altri profughi come loro e altrettanti arrivano su gommoni, su barchini, su mezzi di fortuna, sulle nostre coste. Comunque, le ONG salvano dalla morte certa che è in disperata condizione esistenziale. Ma l'esodo non lo provocano, non lo chiamano, l'esodo esiste, esisterà, crescerà. Pensate ai vostri cari in quelle condizioni e per favore non fate di più guidare dagli slogan, ma dalla buona ragione. Il buonsenso è quello che ci porta a fare delle cose belle. La propaganda è quella che si infila come il cortello nel burro nella nostra pigrizia esistenziale e di pensiero e ci permette di rispondere in maniera troppo veloce e pigra a quello che invece è molto più articolato e complesso. Fate il scendere.